Gli stati generali della mediazione immobiliare in questo periodo e soprattutto in questo momento e in questo passaggio della nostra economia che anche oggi è stata definita un'economia delle piattaforme, vede riuniti agenti immobiliari, vede riuniti i consulenti del credito, le società di mediazione creditizia proprio perché per rimarcare il fatto che il singolo, la professionalità del singolo è fondamentale per tutelare il mercato, per la consulenza nei confronti dei nostri clienti e soprattutto per gestire queste piccole aziende della mediazione che altrimenti sarebbero spazzate via dai grandi gruppi immobiliari. Quindi un incontro che ci serve assolutamente per riunire le forze. Oggi avete visto in questi giorni tutto il parterre politico di stakeholder che erano presenti proprio per fare una proposta unitaria. Ormai le associazioni devono viaggiare insieme e l'hanno detto anche i rappresentanti del governo proprio per condividere i propri saperi, le proprie esperienze per proporre al governo una proposta per un futuro più florido sia per il mercato immobiliare ma soprattutto per tanti lavoratori del nostro comparto, professionisti, dipendenti. Quindi solo FIAIP ha circa 16.000 agenzie, rappresenta circa 16.000 agenzie immobiliari, confassociazioni real estate che raggruppa tutte le associazioni, quindi è un'associazione delle associazioni rappresenta circa 300.000 operatori del mercato immobiliare. Quindi grazie alla FIAIP è un momento importantissimo, elaboriamo e stiamo elaborando proposte che volgano a una proposta che sia propositiva e quindi vogliamo portare il nostro contributo per le tante persone, per i tanti professionisti che qui oggi sono da noi rappresentati. Io penso che intorno a questo mondo del credito e dell'immobiliare si siano raccontate tante favole e molte favole sono state raccontate per interessi propri o aziendali. Il tema è uno solo, nell'economia delle piattaforme tutto viene racchiuso in un luogo, può essere appunto una piattaforma, noi diciamo che non può essere solo una piattaforma ma diciamo che deve essere anche un'agenzia, uno studio professionale. Quindi non rispondiamo a un'esigenza nostra ma dobbiamo rispondere all'esigenza di un cliente che è sempre più esigenza e se entri in un'agenzia vuole vedere risolti tutti i propri problemi. Quindi attenzione, diciamo attenzione perché le piattaforme per loro natura disintermediano e la fascia dei professionisti se non si riunisce, se non fa squadra, se non eleva la professionalità ma se non si dota anche di strumenti quali quelli del credito verrà soppiantata. Allora abbiamo bisogno e in questo caso FIAIP, Confassociazione Real Estate lavorano per questo insieme ad altre associazioni, abbiamo bisogno di portare le banche all'interno dell'agenzia immobiliare, laddove nasce il credito. Se le agenzie immobiliari lasciano il credito nelle mani delle piattaforme domani diventeremo noi agenti immobiliari quello che tempo fa un noto amministratore di un portale italiano disse o ci definì dei semplici apriporta. Noi questo non lo vogliamo, con tutte le nostre forze lottiamo per dare dignità alla nostra professione ma anche come l'obbligo che ha ogni associazione di guardare avanti e non solo al domani e al dopodomani vogliamo che la nostra professione prosegua nel tempo e si adegui a questa economia delle piattaforme.